Episodi per ribaltarvi dalle risate Una premiera esclusiva piena di sorprese In serio? Ospiti speciali E c'è il muzzo! Coreografie mozzafiato Il nostro show è stupendo Nuovi attesissimi episodi Ottima idea! Le novità ti aspettano ogni giorno Domani ti aspetta una serata tutta dedicata ai nuovi episodi La povera Jessie dovrà nascondere un animale poco domestico A Life Bites qualcosa rovina una serata per soli uomini Pizza! Cosa? In salatina! In Ant Farm conosceremo un bizzarro artista E in So Random l'ospite d'onore Mitchell Musso L'appuntamento con le novità è domani dalle 19.10 a Disney Channel